Parvi della grande Montebelluna, ora noi abbiamo un problema in questa città, la grande Montebelluna non è ancora abbastanza grande, abbiamo bisogno di erba sintetica più alta in cui i nostri bambini possano perdersi, essere aggrediti da dei veloci raptor, abbiamo bisogno di anziani soli più grandi, più alti, perché così potranno guardare più dall'alto gli scavi e i lavori che il nostro grande nuovo sindaco farà, il grandissimo sottopassaggio, 400 case buttate giù, solamente per poter dire la nostra Montebelluna è più grande, quando tornerete a casa vostra per aprire la maniglia della porta dovrete fare così, perché Montebelluna crescerà da vista d'occhio e voi non vi accorgerete nemmeno quando attraverserete la strada, perché sarà diventata notte prima che sarete arrivati dall'altra parte, succederà di tutto signori, sarà bellissimo, bellissimo la grande Montebelluna, con Marco Badoer, la mia voce, la vostra voce, arrivederci!